Bentornati a Morden Rose! L'odolo si è scorso! Bentornati a Morden Rose! La notizia di oggi la prendiamo da Daily... Oh, bentornati a Morden Rose! La notizia di oggi la prendiamo da DailyBest.it e ci parla della splendida e rarissima amicizia tra un orso e una lupa che per dieci giorni hanno convissuto sostanzialmente in simbiosi hanno fatto la casa in una capanna che per dieci giorni hanno praticamente vissuto in simbiosi per dieci giorni hanno vissuto in simbiosi scambiandosi protezione protezioni protezioni scambiandosi protezione condividendo il cibo e questa notizia ci dà modo di parlare di un argomento che conosciamo un po' tutti sicuramente non ce ne frega cazzo quindi esiste l'amicizia tra i due sessi o non esiste? e poi l'amicizia tra i due sessi può trasformarsi in qualcosa di di più grande di diverso? fa cagare! fa cagare l'amicizia tra i due sessi fa cagare! non scopi mai! pensiamo un attimo anche a quelli che sono i vantaggi per una donna di avere un amico uomo il primo che mi viene in mente sicuramente è che avere un amico uomo per una donna significa non avere più dubbi ma che cazzo stai a dire oh non mi piace oh bentornati a modern roads la notizia di oggi la prendiamo da motherboards mother mother motherboards mother questa notizia ci dà modo di parlare di che cosa? dell'importanza della voce no? e di chiederci ci piace la nostra voce e poi avere una voce una bella voce può essere una discriminante? no se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima la voce potremmo dire mali mortaci oh bentornati a modern roads la notizia di oggi la prendiamo da stile.it e si chiama in chat si intitola oh bentornati a modern roads la notizia di oggi la prendiamo da stile.it e si intitola in chat alla ricerca in chat alla ricerca dell'amore è stata fatta una ricerca da parte di un sito di un sito di zidog bentornati a modern roads l'argomento di oggi sono i trent'anni dall'uscita al cinema di ritorno al futuro e la trilogia la triade della del film ritorno al futuro il primo episodio della trilogia con Michael J.Flo J.Flo plop 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 ma la domanda per voi è se ci foste la possibilità se ci foste perché perché francese due l'italiano con vanno a fronte a fare tutto un'altra volta voi stareste pronti a rifare tutto un'altra volta Tu voglia la tua purezza Perché ormai non posso più stare senza Quando tornerai Piamola un'altra galleria, piamola, volevo dire, no? Mi pare che si vede bene, direi, no?